salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video e oggi siamo qui su clash royale ragazzi dopo ragazzi vorrei portare anche clash of clans che vi voglio fare due video di questo tipo di dei giochi della supercell ve li voglio portare due nel canale quindi ragazzi qui troviamo le frecce poi lo voglio maggio troviamo 36 di oro quattro cannoni e una rapida ragazzi poi andiamo subito che troviamo qui oro dopo loro troviamo le 2 gm 4 barbari e un razzo ragazzi allora io direi di fare una partita senza sbloccare il baule così se troviamo tipo un baule d'oro ce lo sblocchiamo tranquillamente ragazzi come cavolo si vorrebbe amare ragazzi ok ragazzi lui parte subito con queste truppe pesantissime quindi noi mettiamo la strega qua al mini pecca ok ragazzi ok ok po mini pecca boom baby attenzione attenzione ha sprecato la furia quindi noi mettiamo tutta sta roba gli facciamo i meglio danni ragazzi quindi andiamo subito boom e mamma mia 900 ciao principe boom boom ciao principino mio allora i barbari corrono decisi convinti convinti che vanno a levare la torre facciamo un attimo il bug del bombarolo ok perfetto che ragazzi il bug del bombarolo non può mai mancare negli episodi allora andiamo subito spacchiamogli la spina dorsale a questa carta strega la mia combo è sempre vista scheletrini e mini pecca ragazzi è una bomba veramente allora qui intanto che ti credi di essere queste truppe figo zio che ti credi di essere adesso te le schiatto tutte andiamo a fare di nuovo il bug di bombarolo ragazzi eh la mongolfiera la vuoi far passare la mongolfiera eh eh la vuoi far passare guarda come è convinto ragazzi di far passare la mongolfiera guardate guardate come è convinto ragazzi la sua bomba non ci ha toccato neanche la torre quindi sono pronto a mettere le frecce sicuramente qualcosa no andiamo tranquillamente a rubarvi la sua torre gratis ok andiamo su calmati calmati tizio bello calmati per piacere calmati ok ragazzi guardate che lavoro bello 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 ragazzi che stanno facendo dei miei truppe dei miei truppi scusate ok ok io e tu la torre a me non me la levi forse non ci siamo chiariti tu a me la torre mia non me la levi ti è guarda i miei barbari ti è assaggia le spadate ah sì pensi di fare qualcosa mi metti la mongolfiera vero come metti la mongolfiera ma penso che in questi secondi la mongolfiera non servirà cioè è inutile ciao tizio bello pollicione allora ragazzi siamo qui che vi ho detto ragazzi baule d'oro baule d'oro allora io butto a caso un baule magico ragazzi per esempio se lo troverai ragazzi dopo sta partita dopo queste ultime due partite questa è la prima dopo viene la seconda basta andiamo su clash of clans allora andiamo a mettere questo qui questo qui andiamo subito ragazzi andiamo subito no ragazzi va bene abbiamo perso la torre ragazzi abbiamo perso il 101 per cento ragazzi che sta combo è davvero bastarda ecco infatti ragazzi è impossibile è impossibile trattenere questa combo ragazzi è davvero impossibile ci manda un domatore ma che cosa è ragazzi c'è mandato il domatore c'è ma è comunque un po un barolo è arrivato al bombero se i barbari levano il bombarolo io lo diamo mamma mia ragazzi non era per quella cosa qua questa mamma mia andiamo a mettere questo qui nooo non me la rifai la combo lui pensa devi farmi la combo ragazzi ma noi siamo noi più forti di lui forse lui non gli è chiaro il concetto che noi siamo più forti di lui quindi noi siamo visto che siamo più forti di lui andiamo a mettere queste truppe pesantucce no ragazzi darmene un colpo alle pene dai dai ragazzi andiamo andiamo allora domatore andiamo a fermare con delle cose così poi andiamo con i barbari col mini pack prendiamo con questo qui con gli scheletri e lui ci butta quella roba brutta comunque andiamo a buttare vado ragazzi ci voglio credere quanta roba fermalo ti prego fermalo 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 prima che ci schiatta fermalo fermalo nooo dai 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 ci andiamo con truppe pesanti ci andiamo ci andiamo ragazzi No, maledetto No, ragazzi, no, però No, però No, dai No Vieni Oddio Mio Lo conosci? Oddio Annaggia a te Io ti butto questo No No, ragazzi No, tu non vincerai questa partita Questa partita me la merito io Questa partita me la merito io Sì, hai visto il bombarolo Sei efficace il bombarolo, tizio brutto Tizio brutto E l'andiamo a tristellare Mamma mia Partita bellissima Ce lo diciamo pure Legend Tu sei veramente una leggenda Signore mio Ultima partita Speriamo di fare almeno anche un noi Almeno una corona Quindi Andiamo subito Magic color 23 Allora Andiamo a mettere una bella torre bombardiera Che mettiamo Andiamo ragazzi Allora Facciamo i 10 di Elisir Poi gli mettiamo gli scheletrini per ora Ok, allora 9 10 Ragazzi Anche il livello 7 Ci danno un sacco di corona Quindi ragazzi Ci conviene un sacco Un'ora che ha abbandonato Tizio bello Priciutto Guardate adesso Che li combiniamo ragazzi Che lo combiniamo Che lo combiniamo Che lo No Tanto hai perso No Tanto hai perso No Hai perso No Uffa Però sto tizio brutto Perché mi ha fatto questo Tizio brutto Tizio brutto No 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 Tizio brutto No No Tizio brutto No No E dai Capisco Capisco il baby dragon Però questo no Uh Il mini pecca con una sputa di vita Attenzione No dai Vabbè Facciamo gli subiti Le danni Questo è messo malissimo Ragazzi A un minuto lo sfondiamo Questo ragazzi Ok Andiamo con la nostra combo Ragazzi Non facciamo perdere tempo I nostri Barbaretti Non gli facciamo perdere tempo Che peccato Che peccato Mamma mia ragazzi Dai Moriteci Allora Ci facciamo un paio Uh 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 Ti vedo male Tizio Ti vedo male Tizio prosciutto Ti vedo male Tizio prosciutto Ti vedo male Tizio prosciutto Ti vedo veramente male si stizzi qua ragazzi ho la dei copilancieri se li devono andare un poco in quelle parti lì allora qui intanto qua guardate là no 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 muoviti ad attaccare muoviti ad attaccare muoviti ad attaccare dai voglio tristellarlo boom andiamo col mini pecca andiamo col mini pecca ci facciamo una risata ci facciamo una risata ragazzi mamma mia andiamo baule della colonna e dopo andiamo da clash 2 gem 2 barbari 8 frecce possiamo migliorare le frecce goblin 3 cose qua le frecce ci miglioriamo ok ragazzi ci vediamo su clash of clans ok ragazzi facciamo un due attacchi qui ragazzi perché non è che posso fare proprio attacchi proprio delle grandi gemme ragazzi quindi facciamo due attacchi ovviamente ripeto che in questo account non è che sono fortissimo quindi ragazzi ragazzi allora andiamo andiamo a fare questo caricamento ok ok ragazzi se potenziate un po' di roba la terra c'era il 4 l'abbiamo questo lo abbiamo attiviamo prima tutto attiviamo il tutto quindi ragazzi qui che è successo oh promozione ragazzi promozione attenzione promozione ragazzi la promozione abbiamo i barbari al 2 ragazzi